Parliamo dell'avviso delle pressioni pneumatici. Tempo fa mio amico Massimo mi ha chiamato e mi ha detto guarda, si è acceso l'avviso delle pressioni pneumatici, cosa devo fare? Semplicissimo, basta ripristinare la pressione precedente quindi confiarle almeno 2-5 le anteriori e le posteriori due atmosfere e dopo fare qualche centinaio di metri, una curva, un paio di curve e dopodiché il sistema dovrebbe riconoscere che la pressione all'interno dell'automatico e di nuovo al di sopra del minimo, cancella l'allarme e l'avviso da solo. Questo è tutto, ciao! Ha dimenticato, il mio amico ha una Compass My 19 questa qui invece è una Renegade My 17 quindi di sicuro su questi modelli funzionano presumo su tutte le gambe Renegade e Compass My 17 vieni qua, fatti vedere vieni! la pressione pneumatici è stata ripristinata adesso faremo un paio di chilometri per far passare la spia infatti previamente 500 metri è già andata via la spia la pressione e la pressione�one per far passare la spia giocando per far passare la spia la pressione di un sistema per anche per andare riconoscimento Grazie a tutti.